Amici, ciao, sono Fabio Concato. Il 22 novembre al teatro del Collegio Gallio, che si trova a Como, terrò un concerto benefico il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Vela, che si occupa oltre che di bambini con disturbi dell'apprendimento, da un po' di tempo a questa parte anche di bambini che hanno invece dei disturbi relativi allo spettro autistico. Voi sapete bene, non sono un medico, però credo che sia abbastanza facile intuire di che cosa si parla. Dunque sarà una serata davvero importante, ma sarà ancora più importante parteciparvi, insomma esserci. Dunque vi ricordo un'altra volta, 22 novembre, teatro del Collegio Gallio di Como, si parte alle 20 e 30, non è che poi aspettiamo mezz'ora e ritardatari, eccetera. Ecco, allora, sto scherzando fino a un certo punto. Ci vediamo quella sera e io vi ringrazio in anticipo per tutto quello che vorrete e che potrete fare per l'Associazione e per la buona riuscita di questo concerto che io faccio con immenso piacere. Ciao a tutti, un bacio grande. Ciao, ciao.